Questi sono alcuni dei programmi televisivi che io, sin da piccola, ho sempre visto qui in Italia. Notate qualcosa che li accomuna? Ciao Darwin, la pupa è il secchione, avanti un altro, striscia la notizia, il mercante in fiera... Insomma sì, tutti i grandi programmi televisivi proiettati nelle maggiori tv italiane agli orari di punta. Con questi programmi ci sono cresciuta e ammetto che mi abbiano fatto fare un sacco di grandi risate. Sicuramente poi con il tempo ho smesso di guardare sempre di più la televisione italiana e ho iniziato magari a guardarmi film, serie su altre piattaforme come ad esempio Netflix o altri che conosciamo. Fino a quando qualche mese fa sono andata a farmi un weekend di nuovo insieme ai miei genitori in montagna e ovviamente loro, grandi amanti della tv italiana, o almeno avendo solo quella, iniziarono a rimettere questi canali in cui davano appunto ciao Darwin, avanti un altro, striscia la notizia... E c'era una cosa diversa però, non mi facevano più ridere, neanche un po'. Nonostante le battute di fondo potessero anche essere piacevoli e nonostante io sia sempre stata una grande amante di Paolo Bonolis, riguardando quei programmi con una consapevolezza ormai di una 22enne, non riuscivo a provare altro se non disgusto, profondo disgusto. L'altra cosa che accomuna tutti questi programmi? La figura della donna. Disgusto perché che cos'è una donna? Che ruolo ha una donna? Ci vantiamo di aver raggiunto un'indipendenza, di esserci emancipate, ma per cosa? Ci comportiamo, atteggiamo così perché è veramente una nostra scelta o perché stiamo comunque continuando a giocare ad un gioco, consapevolmente o inconsapevolmente, fondato sempre sul provocare piacere all'uomo. E voglio essere sincera al 100% con voi, vi parlo di questo perché vi voglio parlare della mia storia. Sì è vero, avevo iniziato come una ragazza qualsiasi a pubblicare foto su Instagram per divertimento, ma come può sapere chiunque andando a vedere semplicemente sul mio profilo, pian piano le mie foto hanno iniziato a prendere una piega provocante, possiamo definirle così? Ma certamente un qualsiasi ragazzo che passa, vede e sta sul mio profilo, pensa che sia un profilo estremamente provocante, generato e creato solamente per suscitare un po' di piacere a lui. Ma sapete perché ho il dubbio nel considerare le mie foto provocanti? Perché, che ci crediate o meno, io non ne ero veramente consapevole. Non ho mai effettivamente creato un contenuto pensando di voler attrarre più uomini possibili. O ancora peggio, di pensare di suscitare qualcosa di fisico in qualsiasi uomo che potesse guardare le mie foto. Leggevo i commenti di tanti ragazzi che effettivamente scrivevano sotto i miei post, ma diciamo che le buttavo un po' sul ridere, pensavo fossero divertenti, anche perché io avevo una stragrande maggioranza di amicizie che erano maschili, o almeno così pensavo. Di conseguenza ero anche abituata a sentire gli uomini parlare in un determinato modo, a sentirli scherzare in un determinato modo. E io ero convinta di capirli, pensavo che veramente il loro scherzo fosse paragonabile ad uno scherzo fatto da me, che la loro battuta sessuale fosse paragonabile a quella di una donna nei confronti di un uomo. Ero convinta che loro vivessero il sesso come lo vivevo anch'io. Non realizzando effettivamente mai che fossero veramente in grado di eccitarsi guardando solamente una foto. Io ho sempre pensato di essere un po' più sveglia, perché non avevo tabù, potevo parlare di qualsiasi cosa, vedevo le ragazze molto timide nel parlare di sesso, amore, porno, e invece io ne parlavo con talmente tanta tranquillità che infatti mi trovavo da dio con qualsiasi essere maschile, no? Anche perché io l'atto sessuale me lo vivevo in maniera estremamente naturale, quindi non pensavo ci fosse qualcosa di male. Ma loro non erano come me. L'uomo non ha la stessa visione del rapporto fisico che ha la donna. La donna è un essere complesso, fatta di mille pensieri, di mille emozioni. L'uomo è più fisico, vede una donna nuda e ha subito una reazione dal punto di vista fisico. E a noi succede. Perché io effettivamente ci ho pensato e cavolo, mi sembra proprio di no. Non mi eccito se vedo un qualsiasi uomo nudo, anzi probabilmente mi spaventa la cosa. A meno che ovviamente non si tratti del mio uomo in una determinata situazione, ok? Tu, donna, se ti trovassi in un camerino e ti si presentasse dentro un uomo qualsiasi, anche carino, ma nudo, saresti eccitata? Oppure ne saresti spaventata, addirittura ti sentiresti magari violata? E tu, uomo, se ti si presentasse una bella donna nuda mentre tu ti stai cambiando in camerino, saresti spaventato e ti sentiresti violato? Uomo e donna sono diversi. Io ci ho messo anni per capirlo e sono qua perché spero veramente che voi non dobbiate passare lo stesso per arrivare alle mie stesse conclusioni. Io ho sempre mostrato molto il mio fisico, ho pubblicato molte foto in costume, anche se pensavo fosse abbastanza chiaro il fatto che non volevo essere veramente provocante, visto che comunque avevo sempre un sorriso, comunque cercavo di far capire che ero abbastanza in imbarazzo. Ma comunque anche nella vita reale avevo atteggiamenti un po' provocanti. Quando uscivo per sentirmi bella o comunque approvata, sapevo che avrei dovuto mettere una magliettina un po' più scollata, comunque un pantaloncino un po' più aderente. Ma perché? Perché io facevo questo? Volevo avere tanti uomini? No. Volevo avere le loro attenzioni? Assolutamente no. Quando passeggiavo per strada e un sacco di ragazzi mi chiamavano, mi fischiavano, mi suonavano il clacson, non mi fa piacere, mi sento insicura, ho paura di questa cosa. Alle volte stavo camminando, ma in realtà anche senza essere vestita provocante o cosa, e qualcuno mi si avvicinava a Shaw, bella, e stava là e faceva tutta la camminata insieme a me. Eppure non mi faceva piacere la cosa, quindi stavo veramente cercando di attirare la loro attenzione. Io sono arrivata al punto di detestare gli uomini e le loro attenzioni. Ho ricevuto miliardi di messaggi, commenti da parte di uomini che mi apprezzavano dal punto di vista fisico e sono veramente arrivata al punto di rinchiudermi o odiare qualsiasi forma maschile o commento che fosse inerente al mio fisico, alla voglia che avevano di farmi qualcosa. Anche se magari si trattava di un ragazzo che stavo veramente frequentando. Ma nonostante questo, mi vestivo comunque un po' provocante, mettevo lo stesso la fotina, atteggiandomi anche un po' da stupidina, no? Ma perché questo? Crescendo e avendo la consapevolezza di non voler attirare quel tipo di ragazzi, mi sono chiesta perché allora continuavo a comportarmi così? Perché pensavo fosse giusto comportarsi così. Perché pensavo fosse l'unica cosa che una donna doveva fare nei confronti di un uomo. Essere provocante, attirarlo dal punto di vista sessuale. Pensavo fosse il mio ruolo da donna quello di essere bella, attraente, perché tanto per un uomo vedere una bella donna è come per una donna vedere un bell'uomo, giusto? Lo vedi, dici che è buono effettivamente, però poi ti giri e continui, vai avanti per la tua strada. Beh, no. Non so effettivamente come siano le altre, quindi parlerò a mio nome. Io su un uomo nudo non riuscirei a toccarmi. Il fatto di vedere un uomo nudo in mutande, che sia in foto o dal vivo, non mi provoca tutto questo sentimento. Posso sicuramente pensare che sia un bel ragazzo, posso anche mettergli un like, posso anche seguirlo, ma la cosa per me finisce là. Ma quello che ho capito è che per gli uomini questo è diverso. Gli uomini sono più fisici, abbiamo detto. L'altro giorno mi è capitato di vedere questa news di un uomo che è stato cacciato dalla visione di Madame Webb perché si stava masturbando su Sidney Carpenter. Io non so se questa notizia fosse vera o meno, ma sono sicura del fatto che se non al cinema, comunque nelle camere di molti ragazzi, questo succede ogni giorno con le foto di un sacco di influencer, attrici, modelle o ragazze che conosco. Magari sulle foto di ragazzine che postano le loro foto al mare in costume con le amiche, ignare del fatto che magari potrebbero essere utilizzate per altri scopi. E vi parlo di tutto questo perché ho recentemente avuto una conversazione a riguardo proprio con un uomo che era estremamente convinto del fatto che noi donne fossimo tutte consapevoli del fatto che una volta che postiamo una foto in costume o in cui si vede un pezzo di coscia sul nostro Instagram automaticamente siamo consapevoli di dare il consenso a tutti gli uomini per utilizzarla come preferiscono. Ora io non voglio mettere in dubbio che ci siano donne che ovviamente fanno questo apposta e che utilizzano anche dei canali appositi in cui ci guadagnano pure, giusto? Ma vi posso assicurare che non tutte ne sono consapevoli o almeno io non lo ero. Non ho mai messo una foto pensando di provocare qualcosa di serio nella mente o nel fisico di un solo uomo. Volevo piacere, sì certo come è normale che sia ogni volta che ti esponi che sia sui social o nella vita reale non penso che qualcuno metta una foto dicendo ok oggi ho voglia di far cagare a tutte le persone che mi vedono. Ma volevo piacere come io vedo un bel ragazzo su Instagram e gli metto questo like e dico cavolo sì è proprio un bel ragazzo lo inizio a seguire magari ma sicuramente non sfrutto le sue immagini per provocarmi del piacere. Anche perché ci sono delle donne apposite che fanno questo lavoro e vogliono provocare del piacere negli uomini postando le loro foto o i loro video. E quindi pensavo che questo ragionamento valesse anche per gli uomini e che sì c'era magari il commentino divertente sì sei bella sei buona ma finisse là. E allora mi sono chiesta ma quindi se io effettivamente non volevo provocare nulla nei confronti degli uomini perché continuavo a postare quel tipo di foto? Perché per sentirmi accettata o per piacere pensavo di dover mettere per forza delle foto che corrispondessero a quel tipo di modello? E poi ho rivisto quei programmi televisivi. I presentatori sono uomini nella maggior parte dei casi, sono forti, sono virili, simpatici, divertenti, intelligenti. Ma al loro fianco è sempre presente questa figura femminile. Una figura femminile seminuda, finta, con tette rifatte, vitini, visici, perfetti, mai visti prima. E mi sono chiesta ma perché? Madre natura, credo veramente di non averla nemmeno mai sentita parlare madre natura. Perché ogni volta che c'è una figura femminile in televisione deve essere raffigurata come bella, provocante, ma anche un po' stupida e che non parli troppo? Esageratamente scoperta e senza in grado di dimostrare di avere una dignità dinanzi a tutti quegli uomini che la stanno circondando. Cioè, vi rendete conto, ora che vi ho fatto tutto questo discorso, la stragrande maggioranza di programmi che noi ci guardiamo sin da quando siamo piccoli ci raffigura la donna come una marionetta fatta solo per apparire. Addirittura avevo sentito parlare, solo che non l'ho trovato quindi non sono molto sicura, di un programma in cui c'era il presentatore, ovviamente sempre uomo, e sotto al tavolo una donna rinchiusa in una scatola, trasparente, solo messa così per apparire, mezza nuda. Non ricordo perché mi è stato detto, ma è assurda questa cosa. Se questo è il modello che ci viene dato dalla più grande televisione italiana, che cosa ci vogliamo aspettare dai ragazzi del giorno d'oggi? Veramente è così strano che poi ci siano stupri e aggressioni a tutte le donne del mondo perché l'uomo pensa che tanto la donna sia un oggetto e sia giusto trattarla come si vuole? Quelle donne sono messe lì letteralmente solo per attirare gli uomini e provocare il loro piacere, non solo in senso figurato. E alle donne invece che cos'è che provoca tutta questa cosa? Delle grandi insicurezze. Canoni di bellezza spropositati, donne con gambe estremamente lunghe, vichini stretti, culoni così e tette così, che ricorrono appunto anche alla chirurgia, a effetti, filtri. Mi è capitato l'altro giorno di sentire una notizia dell'intelligenza artificiale che creava dei profili con delle finte influencer. Sono andata a vederne un paio e sono tutte con delle tette enormi e un vichino strettissimo e un culone gigante. Chi è che ha creato quella cosa? Perché non esiste, non è naturale, non può essere quello il canone di bellezza, non può essere quello che gli uomini di adesso vogliono. Perché altrimenti è ovvio che poi non si riconosce più che cos'è la fantasia dalla realtà. Superficialità. Siamo in un mondo estremamente superficiale. Non troviamo più ragazzi disposti a stare in una relazione a lungo termine con noi? Davvero? Ci chiediamo veramente il perché ci sembra veramente così strano? Avere una relazione è un commitment, mi viene da dire così, ma è un impegno, è un impegno costante che devi avere. Devi continuare a scegliere l'altro ogni giorno, devi continuare a coltivare il rapporto ogni giorno, anche quando magari è brutto, anche magari quando hai la luna storta, anche quando la tua donna ha il ciclo, ha la pancia gonfia, i capelli non fatti bene, struccata e ha le unghie ancora da rifare. Per stare in una relazione devi avere forza, devi avere determinazione, costanza. Non c'è più il concetto di lottare per la tua donna, cercare di conquistare l'amore della tua donna. I nostri nonni, o magari prima, insomma, magari qualcuno comunque faceva la scappadina, ma dovevano di base aspettare il matrimonio per andare a letto con la propria moglie. Non pensate che allora ci fossero dei valori un po' più importanti da valutare, oltre al fatto che avesse le tette o il culo? I ragazzini d'oggi sono rinchiusi nelle loro stanze a scrollare, scrollare tra social e video porno, dove per forza perdi il senso di che cos'è realmente la realtà. L'altro giorno ho pubblicato un reel dove mostravo la differenza tra il mettersi in posa e avere delle luci a favore, e invece il mettersi assolutamente con delle posizioni sfavorevoli e luci sfavorevoli. E ho ricevuto centinaia di commenti da parte di ragazzini che nemmeno avranno mai visto una patata dal vivo criticarmi perché avevo un po' di ricrescita di pelle. Ho sempre commenti di questi ragazzini che dicono che noi donne siamo schifose tutte senza il nostro trucco, facciamo vomitare e dovremo colprirci sempre i volti di malta. E che io sono estremamente diversa da truccata a struccata, quando in realtà, purtroppo solo perché sono incapace, ma l'unico trucco che mi mette è un po' di correttore, la matita sulle labbra e il mascara. Julia Roberts nel 1999, alla prima di Notting Hill, ha dato scandalo perché salutando si è visto che aveva del pelo sotto l'ascella. Ci vogliamo rendere conto? Il pelo è una cosa naturale. Come cresce a voi uomini? Cresce anche a noi donne. Perché noi dobbiamo farci la ceretta, dobbiamo coprirci tutti i brufoli, dobbiamo stirarci i capelli e invece voi a noi piacete ancora di più se siete appena svegliati al mattino con tutti i capelli arruffati? Perché noi apprezziamo la vostra naturalezza e voi denigrate la nostra? Questi ragazzini dove vivono? Da dove escono? Che tipo di insegnamento dalla famiglia ricevono? Si basano sulle modelle che vedono su Instagram perché hanno un trucco naturale e pensano che quella sia la vera realtà della donna quando non capiscono che in realtà dietro ci sono ore e ore di make-up artis e di luci e di editing per riuscire a rendere la pelle così levigata. E questo è un grande problema perché questi sono i ragazzini che poi faranno sentire inadeguate, imperfette. Tutte quelle ragazzine che magari essendo nel loro periodo di sviluppo avranno un po' di acne, un po' di cellulite, avranno le smagliature e si sentiranno imperfette, si sentiranno sbagliate perché vedono i social e vedono i canoni di bellezza che hanno i loro compagni e dicono cavolo ma io non sono così, cavolo ma come posso diventare così? Non puoi, non puoi perché è giusto essere come sei tu, è giusto essere naturali quella è la verità. E no, non è solamente colpa degli uomini perché so che qua ci saranno miliardi di commenti di uomini che diranno che in realtà io non sono così, non siamo tutti così non pensiamo tutte la figa e siamo tutti diversi. Lo so che ci sono anche degli uomini che hanno un po' di cervello e lo spero sinceramente perché siete la salvezza di questa nostra generazione. Sicuramente ci sono un sacco di uomini che ci oggettificano e che ci riducono ad una bella copertina da usare quando vogliono e da buttare via e passare alla prossima quando non ne hanno più voglia. Ma il problema è che noi donne glielo permettiamo il problema è che noi donne modifichiamo le nostre foto per paura di essere giudicate da queste persone ignoranti. Io capisco il make-up, è una forma d'arte e ci può piacere ma non dobbiamo utilizzarlo per coprirci perché abbiamo paura e vergogna di mostrare quello che siamo realmente. Io mi faccio la ceretta quando ne ho voglia perché effettivamente magari è qualcosa che a me non piace mi piace la pelle molto levigata ed è una cosa che faccio per me ma il mio ragazzo non si scandalizza se ho dei peli. Attualmente ho dei peletti, le mie gambe hanno i peletti se mi faccio il rasoio dopo un giorno, dopo un'ora ho già la ricrescita, è normale. Quindi se è una mia scelta truccarmi se è una mia scelta perché mi piace fare editing video quello posso farlo ma non dobbiamo farlo per piacere agli altri non dobbiamo sottostare a questi canoni estremi di bellezza e ridurci a odiare noi stesse solo perché non c'è più la concezione di che cos'è veramente la realtà. Ci domandiamo perché le relazioni non durino più come una volta ma ci rendiamo conto. Secondo voi è più facile investire e credere in un rapporto con una donna vera con le smagliature, con la cellulite, con l'acne e i capelli scompigliati e i propri sbalzi d'umori o semplicemente scegliere quale porno guardare oggi se avere la bionda con le tette perfette o la rossa con il sederone. Siamo diventati ormai così superficiali e così pigri da avere addirittura creato delle app per gli incontri. È assurdo, sono letteralmente delle app in cui tu solo in base neanche alla persona come esteticamente ma delle foto di quella persona scegli se con un click scartarla oppure provare a farci una uscita. Non siamo più in grado di apprezzare i processi la ricerca, l'innamoramento la fatica che fai per mantenere in piedi un rapporto. Abbiamo talmente tanta scelta che non ci importa nemmeno se è una relazione che magari dura da anni o che magari anche all'interno dei figli va a quel paese perché tanto ci basta semplicemente aprire un'app e fare un click e ne troviamo un'altra e magari è anche più figa di quella prima. E allora che senso ha?